Diciamo quindi che se Roma e l'imperio romano d'Occidente crollò nel 476 d.C., abbiamo detto che invece l'imperio romano d'Oriente non crollò con l'imperio romano d'Occidente, anzi, sopravvisse per ben altri quasi mille anni, perché cadde nel 1453 ad opera dei turchi. Ciò che rendeva forte l'imperio bizantino rispetto all'imperio romano d'Occidente era soprattutto la solidità del sistema statale, si erano mantenuti in piena efficienza la burocrazia, la diplomazia, l'esercito, c'era un'organizzazione gerarchica ben definita, simile a quella che deve essere tipica di un apparato burocratico statale, che invece in Occidente si era andato sempre più frammentando. C'era un'agricoltura ancora molto viva, ancora molto florida, in Oriente esisteva ancora la piccola e media proprietà contadina, mentre in Occidente era del tutto saltata, il commercio era ancora florido, e d'altronde l'imperio bizantino stava a metà tra due mondi ben distinti, l'Oriente, l'estremo Oriente e l'Occidente. Quindi da una parte poteva commerciare con i paesi europei e dall'altra con i paesi asiatici. Poi era ancora molto florida una cultura urbana, Costantinopoli era una metropole gigantesca, contava 500.000 abitanti, che per l'epoca era veramente tantissimo. Poi, sempre per quel che riguarda i commerci, esisteva ancora una moneta nell'imperio romano d'Oriente, invece in Occidente ormai si era passati al baratto. Quindi diciamo che l'imperio romano d'Oriente, l'imperio bizantino, è ancora estremamente florido, anzi è la potenza ormai sulle scene politiche europee ed è lo Stato in assoluto più forte. E chiaramente qual era il centro culturale, politico, economico più importante di questo impero? era Costantinopoli, Costantinopoli che abbiamo già detto essere una metropoli con più di 500.000 abitanti e che era anche la sede del palazzo imperiale. Sede del palazzo imperiale con la figura dell'imperatore, che era ancora una figura fondamentale, centrale nelle sorti dell'impero, non era certamente più come era stato negli ultimi periodi l'imperatore d'Occidente. L'imperatore d'Oriente, che da quel momento in poi prese sempre di più il nome di Basileus o Basileus alla greca, era considerata una figura sacra, la cui autorità discendeva direttamente da Dio. L'imperatore rappresentava il vicario di Dio in terra. Oggi noi diremmo che un potere del genere può avercelo soltanto il Papa in Occidente. Ebbene, nell'imperatore, nell'impero d'Oriente, l'imperatore ormai rappresentava non solo la massima autorità politica, ma anche la massima autorità religiosa. tanto che la Chiesa stessa era sottomessa alla sua autorità. Quindi pensate all'enorme differenza che invece c'era con l'Occidente, in cui il Papa, anche durante, prima della caduta dell'impero romano d'Occidente, il Papa stava prendendo sempre maggior potere rispetto all'imperatore, che invece era una figura sempre più debole dal punto di vista politico. E in Oriente, invece, l'imperatore era il sovrano politico e anche il sovrano ecclesiastico della Chiesa. Era lui a nominare il Patriarca di Costantinopoli, che era la figura religiosa più importante in Oriente dal punto di vista religioso. Era lui che decideva, che convocava o presideva i concili, ed era lui, tra l'altro, il custode dell'ortodossia, della giusta dottrina da dover professare. Questo fenomeno fu, cioè, del fatto che nell'imperatore si condensassero sia il potere politico che il potere religioso, gli storici moderni lo hanno chiamato con una parola che è Cesaro-papismo. Cesare, deriverebbe quindi il potere politico, papismo per il potere invece religioso. Cesare-papismo. Perché l'imperatore era la massima autorità sia in campo religioso che in campo politico. e chiaramente, a livello ideale, l'imperatore d'Oriente rappresentava il normale erede dello Stato romano e della cultura greca. Quindi si parla, infatti, di una seconda Roma con Costantinopoli. Vedremo poi che questa sorta di potere, sia politico che religioso, dal punto di vista dell'imperatore d'Oriente, causerà poi una netta separazione con la cristianità occidentale. Tanto che si separeranno sempre di più il cristianesimo orientale dal cristianesimo occidentale, che farà sempre più capo al Papa come figura di riferimento, mentre quello orientale continuerà a fare riferimento all'imperatore di Costantinopoli. Poi, durante il Medioevo, addirittura attraverso lo scisma, si ufficializzerà completamente la divisione religiosa tra le due. Tanto che in Oriente verrà a costituirsi la chiesa ortodossa e invece in Occidente rimarrà la chiesa cattolica che noi conosciamo, chiesa cattolica romana. Comunque, diciamo che dal punto di vista dei fatti, l'imperatore più importante dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente che era in Oriente nel 527 sale al trono giustiniano. Giustiniano rimarrà al trono fino al 565, quindi governerà per tantissimo tempo. Fu uno dei più grandi sovrani della storia bizantina e grazie a lui si portò a compimento la concezione della sovranità di cui vi ho parlato poco prima, cioè sottomise ogni aspetto dello Stato e della chiesa alla sua volontà. Tutto fondamentalmente doveva rispondere all'imperatore, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista religioso. La sua grande idea che come imperatore aveva intenzione di mettere in pratica era l'idea della renovatio imperi, cioè la restaurazione dell'impero romano, dell'impero romano cristiano. Fondamentalmente giustiniano che cosa voleva fare? Voleva provare a riconquistare, se non gli stessi identici territori che erano stati precedentemente occupati anche dall'impero romano d'Occidente, voleva provare, se non altro, a conquistare il Mediterraneo, tutte le coste del Mediterraneo. Quindi voleva riconquistare tutto il Mediterraneo dal punto di vista militare, togliendolo ai regni romano barbarici, che lui considerava regni deboli e quindi facilmente conquistabili. Voleva difendere l'ortodossia religiosa in modo da garantire a tutto l'impero l'unità nella fede cristiana e poi rafforzare l'organizzazione amministrativa, garantendo che in tutto il territorio venissero rispettate le stesse identiche leggi. Quindi per fare questo, erano tre obiettivi, la riconquista dei territori persi dall'impero d'Occidente, l'unità religiosa da assegnare a tutte le terre conquistate e poi una legge unica per tutti i nuovi territori conquistati e per quelli che erano già appartenenti all'impero romano d'Oriente. Dal punto di vista dell'amministrativo, dal punto di vista della giurisdizione, quindi della legge, Giustiniano fu il promotore di uno dei più grandi codici legislativi mai stati fatti nell'epoca antica, che è il Corpus Iuris Civilis, finito di stendere nel 534, ovvero era un insieme di norme di diritto che dovevano regolare la vita dei cittadini. Chiaramente l'impero romano e i romani erano stati, anche in generale, sia quello d'Occidente che d'Oriente, erano stati una civiltà che aveva una larga cultura giuridica, uno dei più grandi nell'antichità è stata sicuramente la civiltà che aveva dato vita alla più grande cultura giuridica del tempo. Giustiniano, fondamentalmente, quando avviò questo Corpus Iuris Civilis, si preoccupò, chiaramente non fu lui in prima persona, finanziò i giuristi esperti che cosa dovevano fare. Fondamentalmente dovevano riprendere tutto il corpo di leggi che si era accumulato nel corso dei secoli, perché l'impero romano ormai aveva mille anni di vita e nel corso di questi mille anni le leggi che erano state scritte una sopra l'altra erano diventate gigantesche. Quindi, fondamentalmente, Giustiniano finanziò che cosa? Il progetto di riscriverle, dargli nuovamente un ordine e anche di rinnovarle, quindi scrivere anche delle nuove leggi che si adattassero alla nuova forma governativa assolutistica dell'impero romano d'Oriente. Quindi fu una sorta di rielaborazione di ciò che era già stato tramandato e poi anche una sorta di innovazione che doveva adattarsi al nuovo sistema giuridico dell'impero romano d'Oriente. È molto importante quest'opera perché se noi oggi conosciamo il diritto romano su cui poi alla fine si sono fondate gran parte degli stati moderni nei quali noi oggi abitiamo, se noi conosciamo queste leggi lo dobbiamo proprio al Corpus Iuris Civilis che rimase per molto tempo la fonte principale di tutte le legislazioni degli stati europei fino all'età moderna. Per tutto il Medioevo, se qualcuno voleva studiare legge, doveva studiare sul Corpus Iuris Civilis, non solo nel Medioevo, quindi non solo per mille anni, perché il Medioevo parte dal 476 al 1492 più o meno, ma anche appunto ben oltre, anche nel 1005, nel 1006, si continuò a studiare questo corpo di leggi che risale appunto al VI secolo d.C. e risale a quest'opera grandiosa che finanziò l'imperatore Giustiniano. Quindi questo dal punto di vista della legge, dal punto di vista dell'obiettivo di unificare l'impero con un'unica legge che fosse valida per tutti, Giustiniano ha finanziato l'opera del Corpus Iuris Civilis. Per quanto riguarda invece la difesa dell'ortodossia, Giustiniano entrò all'interno proprio, e cercò di risolvere diversi conflitti che si stavano venendo a creare all'interno della chiesa cattolica orientale, in questo caso, e c'erano tantissime eresie nuovamente. Noi abbiamo già visto il donatismo e l'arianesimo, in epoca ancora imperiale, dell'impero però ancora d'occidente. Nel tempo se ne creeranno sempre tantissime di nuove ortodossie. In questo caso Giustiniano cercò di risolvere il problema di due dottrine contrapposte, il nestorianesimo e il monofisismo. Erano le due eresie più in voga all'epoca che, come al solito, professavano l'una, il nestorianesimo, che, siccome Gesù doveva avere sia di natura umana che natura divina, allora era molto probabile che ce ne fossero state due persone diverse, una che avesse una natura umana e l'altra che avesse una natura divina. Quindi una sorta di due Gesù non nello stesso corpo, insomma è molto complicato, fondamentalmente esattamente un po' come l'arianesimo, avevamo visto, sostenevano che Cristo avesse sia natura umana sia natura divina, mentre il monofisismo sosteneva che avevano soltanto la natura, che Cristo avesse soltanto la natura divina. Quindi che cosa fece Giustiniano? Esattamente come fece Costantino, ai tempi dell'impero romano unito, e convocò dei concili per risolvere queste diatribe. Probabilmente, anzi non probabilmente, non ci riuscì perché i problemi religiosi sono sempre stati molto difficili da risolvere solo con dei concili, però sicuramente si fece portavoce e unificò il culto e la dottrina religiosa cercando di far capire quale fosse quella giusta da seguire. Per quanto riguarda invece la riconquista del territoriale dell'impero romano d'Occidente, in questo caso, Giustiniano si affidò a un generale, inizialmente Belisario, che partendo con l'esercito occupò subito l'Africa setentrionale, che, se vi ricordate, era il regno romano barbarico dei Vandali. In poco tempo Belisario riuscì a sconfiggere i Vandali. Nel 535, dopo aver sconfitto i Vandali, Belisario viene inviato in Italia per sconfiggere i Goti, che erano ancora insediati lì dai tempi di Teodorico, e per riacquistare il territorio italiano. Il fatto è che la guerra greco-gotica, fatta tra bizantini e Goti, non fu altrettanto semplice come quella contro i Vandali. Anzi, durò per più di un ventennio. Dilaniò l'Italia, che era già stata una provincia disastrata dalle invasioni, dalle carestie, dalle pestilenze, e la guerra greco-gotica li dette proprio il colpo di grazia. Durò per vent'anni. Alla fine Belisario non riuscì a dare il colpo di grazia ai Goti, e quindi venne sostituito da un altro generale bizantino che si chiamava Narsete. E finalmente, nel 554, con la cosiddetta prammatica sanzione, Giustiniano riuscì a riportare, grazie al generale Narsete, alla vittoria finalmente sui Goti, Giustiniano riuscì a riportare l'Italia sotto l'unità imperiale. e ristabilì gli antichi rapporti sociali, anche se il paese era ormai stremato, cioè quella provincia italiana era veramente alla frutta. L'ultima guerra, l'ultima campagna militare che poi Giustiniano intraprese dopo la guerra d'Italia fu la guerra contro i Visigoti nella penisola iberica. Gli Ostrogoti, vi ricordate, erano le tribù dei Goti guidate da Teodorico che partirono dalla Mesia e arrivarono in Italia, i Visigoti invece si erano stanziati nella penisola iberica. dopo che Alarico era riuscito il primo sacco di Roma, insomma si erano stanziati nella penisola iberica. Giustiniano quindi affidando l'esercito sempre a Narsete e parte e riesce a riprendere il possesso di buona parte del sud della penisola iberica. Quindi diciamo che il progetto di riconquistare il Mediterraneo da parte di Giustiniano e quindi in qualche modo di ripristinare le antiche terre dell'imperio romano d'Occidente anche se mancava gran parte del territorio, cioè tutta la penisola iberica del nord, tutta la Gallia del nord, buona parte di quella che noi oggi chiamiamo come Svizzera, quindi della Gallia transalpina, la Britannia, mancavano tutte quelle terre. Però il Mediterraneo, col fatto che i vandali erano stati sconfitti nell'Africa del nord, nella penisola iberica erano tornati sconfiggendo i Visigoti, la penisola italiana era tornata in mano all'imperio romano d'Oriente con la sconfitta degli Ostrugoti, la penisola balcanica era già, faceva già parte dell'imperio romano d'Oriente come tutte anche le province della Siria e dell'Egitto, eccetera. Quindi il Mediterraneo era tornato ad essere un lago romano. In realtà, però, durò molto poco questa conquista, perché che cosa successe? Che l'impero romano d'Oriente, improvvisamente, dovete affrontare una nuova minaccia che proveniva da Oriente, ancora più da Oriente, cioè dai Persiani. Vi ricordate che c'era il grande nemico di Roma, oltre ai Germani a nord, era l'impero dei parti a sud, che poi, grazie a un cambio di casata, di dinastia, divenne anche l'impero persiano, che divenne poi il principale nemico dell'impero romano d'Oriente, chiaramente. Nel 540 la potenza persiana tornò a farsi risentire e iniziarono i Persiani a premere sul lato orientale dell'impero. Nello stesso tempo, nella penisola balcanica, le tribù di Bulgari e Slavi iniziarono a premere ai confini del nord dell'impero romano d'Oriente. Quindi, in poco tempo, anche a causa del fatto che Giustinano aveva speso, aveva, con la riconquista dell'impero romano d'Occidente, aveva dissestato le casse imperiali, ormai c'erano veramente pochi soldi, e in poco tempo l'impero romano d'Oriente dovete affrontare una grave crisi. E infatti, nella seconda metà del VI secolo, cosa successe? Che fondamentalmente l'Italia che era stata conquistata faticosamente da Giustiniano subì l'invasione dei Longobardi, che poi studieremo in un'altra unità. I Longobardi, un'altra popolazione barbarica, discese in Italia e conquistò gran parte dei territori bizantini. I bizantini non sparirono dall'Italia, continuarono a esistere e a sopravvivere, soprattutto sulle coste italiche, mentre i Longobardi nel nord Italia e nell'entroterra. I Visigoti stesero nuovamente il loro dominio sulla penisola iberica, e poi gli Slavi a Oriente, nella penisola balcanica, ridussero ancora di più la potenza dell'impero romano d'Oriente sulla penisola balcanica. Quindi in poco tempo il progetto della rinnovazione imperi di Giustiniano crollò e l'impero romano d'Oriente dovette addirittura lottare per la propria sopravvivenza, perché nel frattempo anche i persiani stavano iniziando ad attaccare l'impero sul fronte orientale. Chi riuscì a risollevare le sorti dell'impero romano d'Oriente che sembrava veramente in crisi fu l'imperatore Eraclio, che governò dal 610 al 641. Eraclio riuscì a frenare l'avanzata delle popolazioni nemiche e contemporaneamente riuscì a riformare lo Stato e la società che stava collassando sempre di più. Furono molto importanti i successi militari che Eraclio riuscì a ottenere e riuscì a rispingere una popolazione proveniente da Oriente che erano gli Avari e addirittura riuscì a penetrare nel territorio perziano, accelerando la crisi di questo impero. Tanto che, proprio quando finalmente l'impero romano d'Oriente sembrava poter avere la meglio contro il rivale storico dell'impero romano, cioè il regno perziano, proprio in quel momento, ironia della sorte, i bizantini dovettero affrontare una nuova invasione, quella degli arabi, che arrivarono e nell'arco di 15 anni strapparono i territori la Palestina, la Siria, l'Egitto e altri territori africani all'impero romano d'Oriente, oltre ad occupare tutto l'impero romano, l'impero perziano. Quindi Eraclio riuscì a respingere tutti i nemici che in quel momento stavano affliggendo e causando il panico nell'impero romano d'Oriente, nel giro di tanto tempo, chiaramente, nel giro di anni. Quando finalmente era riuscito a sconfiggere anche i perziani, gli arabi arrivarono e nel giro di poco tempo tolsero, occuparono tutto l'impero perziano e conquistarono, tra l'altro, territori all'impero romano d'Oriente, la Palestina, la Siria, l'Egitto e molti altri territori africani. Eraclio, comunque, fu importante per altri aspetti, anzitutto perché fu l'imperatore che decise di unificare linguisticamente ciò che era rimasto nell'impero e la lingua che scelse non fu il latino, ma il greco. Il greco, da questo momento in poi, era la lingua ufficiale dell'impero romano d'Oriente e, d'altronde, era abbastanza evidente vista l'avvicinanza con la Grecia e l'influenza enorme che la cultura greca continuava ad avere in quella parte dell'impero romano. Poi dovete affrontare notevoli problemi religiosi e uno in particolare perché nel mondo bizantino, a differenza del mondo religioso occidentale, la venerazione delle immagini sacre era la forma di devozione popolare più diffusa. a dire la verità anche in Occidente, sia in Occidente che in Oriente si veneravano le immagini sacre, le immagini di Cristo, le immagini poi successive della Madonna, eccetera. e il problema è che in Asia Minore c'era una sorta di opposizione nei confronti della raffigurazione del sacro. Cioè, in Asia Minore, a differenza che in Occidente, si vedeva nella raffigurazione del sacro qualcosa che doveva essere vietato, cioè il Santo, il Cristo, non doveva essere raffigurato, era vietata la raffigurazione di qualcosa di così grande come la cristianità, come Cristo o i Santi. Sembrava quasi che la raffigurazione di un Santo o di Cristo poteva portare quasi a una forma di idolatria, a una forma di paganesimo nuova che in Asia Minore non era tollerata. e in questo caso in particolare Eraclio, ma più di Eraclio, un altro imperatore, Leone III, emanò un editto che vietava il culto dell'immagine sacre e ordinava la cosiddetta iconoclastia, iconoclastia, ovvero la totale distruzione di tutte le immagini. Quindi vennero bruciati i crocifissi, vennero distrutti i mosaici e si scatenò un vero e proprio caos interno all'impero romano d'Oriente che portò poi a un notevole indebolimento dell'impero romano perché chiaramente c'erano i sostenitori di chi voleva continuare a venerare le immagini sacre e chi invece no e quindi si scatenarono lotte intestine religiose all'interno di Costantinopoli fuori da Costantinopoli e fu comunque importante questo evento perché per la prima volta a livello ufficiale le due chiese quella bizantina e quella romana si divisero la chiesa bizantina e la chiesa romana non furono più unite a partire dal settecento trentuno dopo Cristo quindi siamo nell'ottavo secolo e papa Gregorio terzo papa romano Gregorio terzo convocò un concilio che condannò l'iconoclastia e scomunicò l'imperatore Leone terzo da questo momento in poi le sorti della chiesa occidentale si divideranno per sempre da quelle della chiesa orientale quindi quando affrontiamo l'unità dell'impero bizantino bisogna ricordarsi anzitutto perché l'impero bizantino sopravvisse all'impero romano d'occidente poi la rinnovazione imperi di Giustiniano con i tre aspetti i tre obiettivi che si era prefissato poi parlare di come la rinnovazione imperi chiaramente va in crisi e di come anche l'impero romano d'oriente rischia di entrare in crisi la risposta di Eraclio che riesce a salvare le sorti dell'impero dandoli forza sia dal punto di vista della politica estera che nella politica interna e l'iconoclastia che è la separazione delle due chiese quella occidentale e quella orientale infine l'ultimo episodio importante per quel che riguarda la storia dell'impero romano bizantino e come influirà poi nella storia che noi andremo a studiare in occidente è la conversione degli slavi gli slavi abbiamo detto essere un popolo che è attaccato un popolo è un popolo indoeuropeo barbarico perché proveniva da fuori non aveva niente a che fare con i germani il popolo degli slavi che proveniva dall'Europa centrale e orientale gli slavi tra l'altro si dividevano gli slavi orientali che erano i russi i cosiddetti russi che fonderanno poi l'impero vastissimo nell'odierna Russia gli slavi occidentali e gli slavi meridionali sfurano soprattutto gli slavi occidentali e meridionali quelli che ebbero a che fare con l'impero romano d'oriente e vi avevo detto che gli slavi iniziarono a penetrare i territori dell'impero romano d'oriente in particolare la penisola balcanica dove d'altronde sono tuttora gli slavi sono gli europei dell'est in gran parte di quelle popolazioni per molto tempo l'impero tentò di tenerli a bada sia attraverso la guerra ma anche pagandoli profumatamente per non farsi attaccare nel frattempo man mano che si cercava di o di fargli guerra per respingerli o di pagarli per non farsi attaccare provarono due monaci greci molto importanti per la storia della cultura mondiale poi questi due monaci si chiamavano cirillo e metodio provarono a convertirli a evangelizzarli e per fare ciò misero appunto un nuovo alfabeto che si basava su quello greco il cirillo il famoso alfabeto cirillico l'alfabeto cirillico che è quello tutt'oggi utilizzato dai popoli slavi e dalle lingue slave le lingue slave quindi il russo il croato il moldavo l'ungherese tutte queste lingue si basano ancora oggi l'ucraino su l'alfabeto cirillico che è stato inventato da cirillo e metodio proprio in questi anni durante il tentativo di conversione di questi popoli che riuscì alla grande perché gli slavi divennero a tutti gli effetti cristiani cristiani ortodossi chiaramente cristiani che seguirono poi il rito evangelico dell'impero romano d'oriente e non quello occidentale ed è chiaramente importante questo evento perché questa politica di integrazione che portarono avanti questi due monaci è all'origine poi degli stati slavi indipendenti che si verranno a formare nell'epoca moderna un po' Grazie a tutti.